Ha letteralmente conquistato tale quale show la barata e simpatica Stefania Orlando ieri 17 settembre 2021, infatti è stata impegnata in Million Horizons di Lady Gaga, andando a fare un'interpretazione davvero magistrale, epica, azzarda a dire sublime, tanto che la sua interpretazione è piaciuta davvero a tante persone, soprattutto ai giudici. L'unica voce di critica è stata quella del buon Cristiano Maggioglio, che però è stato puntualmente fischiato dal pubblico presente all'interno della sala. Stefania Orlando ha letteralmente incantato il pubblico attraverso questa interpretazione di Million Horizons di Lady Gaga, un pezzo di per sé abbastanza difficile, complicato da dire, ma che comunque è stato veramente apprezzato dalla stragrande maggioranza delle persone che hanno veramente goduto di un'interpretazione magistrale, nonché epica, nonché di fascino in mezzo. E' stata davvero brava Stefania Orlando, riuscendo a portare in maniera equilibrata la voce che ha, facendo, diciamo così, un'interpretazione rielaborata bene e resa ancora meglio anche dalla sua bellezza e soprattutto dalla sua grande bravola. Complimenti dunque a lei, il video termina qua, ieri vi ricordo che il 17 settembre del 2021 il programma ovviamente è stato tale quale show. Il programma di Rayuno. Ciao a tutti, l'arriano narratore italiano e complimenti a Stefania Orlando.